Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado oggi siamo qui per scautare in via del tutto eccezionale solo per le acque e solo per delle acque limitate la campagna natalizia comprende per quanto riguarda le acque questo limited box con le water blue new world e questo qui col 5% in cui si può scegliere la propria idol preferita allora io andrò a schippare quasi sicuramente quello delle muse perchè comunque cotore sapete ormai ho tutte le sue ultra rare limitate e non limitate quindi prima andrò a scautare in questo box ci sarà anche questo, si l'ho preso e peccato che sia randomica la OR però va bene oggi andremo a scautare prima di tutto qui e solo esclusivamente con le gemme andrò a scautare per due membri delle acque il primo qual è? il primo sarà chica caca mi cica dunque andiamo con le gemme con le gemme perchè voglio ovviamente accumulare Miracle Bell per la campagna ok bollino ricco snow fairy la quarantesima che mi esce nell'ultimo periodo ah non ho tolto il risparmio energetico vabbè strottenta a non far morire lo schermo ok chica teacher dovrei avercela oh no chica teacher chica teacher dovrei già avercela infatti rido per Anamaru New Year il set che odio in assoluto ma insomma ok andiamo secondo cinquantino se ce la fa ok 2SR no basta ma solo questo set c'è non so il New Year che è brutto cioè che è brutto che ma non piaccio come set no dovrei avercela già Ricco Ruby sicuramente bollino Ricco ah è nuova ok perfetto forse l'avevo trovata sul JP vabbè solo questi due set ci sono davvero no mi sta venendo un dubbio onestamente no un paio ce la puoi fare comunque dicevo per chica non mi dispiacerebbe fare un più di un più di uno scout per questa OR di chica devo vedere un attimino insomma nel caso in cui decidessi di fare un altro pool quindi prenderne una seconda non credo lo registrerò quindi tre SR perché insomma alla fine ne basta una ecco non so ok la Argi oh che corino la Stop Bubble non ricordo la prima del set onestamente però ok tutte carte nuove a parte io forse la posso utilizzare o ce l'ho già no l'Ara ce l'ho già utilizzata questa Ioane Love of Nature oh penso sia quella primaverile con chica e ruby non lo so vabbè ok e quindi siamo al quarto credo questo è il quarto mamma cara ok Ioane Summer Beach o Swinsuit vabbè quella forse ce l'ho già utilizzata oh mamma cara no ancora Ioane questa è la yukata ce l'ho già una copia se non erro sì ok ok 200 gemme chica per favore è Natale fammelo un regalo no non me lo fanno oh meno male ok dai a Punk Rock ce l'ho già utilizzata mi fa svuotare il box è un ottimo inizio allora volevo approfittare del 5% per fare uno 2 pool per Rico visto che insomma è la mia acqua preferita insieme a Mari e ormai di Mari mi manca solo un'ultra rara mentre di Rico non mi ricordo se ho solo la come si chiama la baseball no la cheerleader vabbè o se ne ho anche qualcun'altra un'altra solo non qualcun'altra comunque bene chica è il momento buono per uscire però se va avanti così onestamente non lo so no dai me lo fa sputare tutto oh my fuck what ok ce l'ho già è anche già utilizzata comunque si volevo fare un tentativo 2 per Rico ma se mi tocca usar tutte le gemme per questo santi numi che bello 34 voglio vedere aspettate dettagli quasi un 3% cam 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 oh finalmente era ora mamma cara anamaru valentine anamaru valentine anamaru valentine che non ricordo se ce l'ho no sto set che piaga anamaru valentine ce l'avevo già finalmente sta cicca madonna che sofferenza ecco è una 12 6 va bene cioè va bene non che no però allora andiamo a fare reset così poche gemme andiamo a rischiare andiamo adesso a scautare per mari sperando che il potere shiny sia più forte ok 3 sr 1 ss ok ce l'ho già cannon animal erano 3 sr se non erro ok ok questa è nuova ruby non lo ricordo ok questo piano ce l'ho già esatto anche ruby ce l'avevo già praticamente lo scout di prima era solo new year areghi yukata e snow fairy e adesso siamo solo su set estivi e vabbè shiny ok ma wow mamma mia ok cannon valentine non so non so onestamente se l'ho pullata nel jp o qua l'ho pullata qua perchè non è nuova comunque credo di poterla utilizzare non bollinare terzo scout per la shiny perdonate la voce ma veramente non so come mai questo abbassamento è ok ok erico circus santo c'era ok diasop bubble carina chica wonderland pronto ok ce la faceva più neanche lui poveretto ok quindi nuovo c'è solo ricco credo di poterla utilizzare o bollinare I don't know Mari questo è il momento giusto per uscire shiny mi sento male raga no niente mamma mia questi box sono pura sofferenza raga c'è oh che corina un amaro china dress che è nuova anche i rubi c'è lì era nuova mamma cara raga ho solo 300 gemme non ci credo nemmeno io mi sento male cioè da quanto tempo è che non arrivavo così poco mamma cara ancora ancora emozionante ok chica circus ciao praticamente sotto 600 gemme io mi sento veramente molto molto male molto male 45 2222 porta fortuna Mari vediamo 11 raris coming no mamma cara ok canon angel ce l'ho già idolizzata mamma cara non ci credo oh se non ti faccio un po' di bollini che mi fanno comodo anche quelli però ok questa canon non so onestamente il set non mi può interessare neanche quindi ok vabbè Mari ci arrivo a zero credo di quittare il box 5% ok finalmente ok questa io tremenda cioè tremenda che non mi piace oh finalmente grazie Gesù era ora che cavolo che sofferenza avrei potuto in realtà scautare per due chica e lasciar perdere Mari però onestamente ci tenevo ad averla anche questa Mari perché sul JP non ce l'ho quindi allora che skill ha ogni 31 c'è un 40% ok mi è totalmente inutile perfetto ok ok quindi anche qua praticamente credo di aver dovuto anzi senza il credo ho fatto gli stessi identici scout sia per Mari che per chica la setto il box che se mi verrà voglia cosa che non credo però di fare un altro pull per chica già è a posto andiamo a fare questo qui è garantito uno scout da 11 in cui è garantita una OR scogli unity random andiamo a vedere fortunata come sono non c'erà la OR una delle OR e quante sr mh 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 ma di Wonderland non ricordo se ce l'ho ovviamente una delle ultime figura ecco vabbè ok rido ma ok va bene va bene ok allora questa è Dai chica universe ricco dottoressa la posso bollinare in realtà ha una buona se non ricordo male è una buona limited questa però 35% to your combo non lo so onestamente perché mi sembra similare all' umis con gli unity ma la umis con gli unity dà un tot di punti fisso chiaramente se la si schilla aumentano però dà un tot di punti fissi mentre questa qui dà dei 25 ai 250 quindi onestamente non lo so comunque al momento rimarra lì scout again con cosa ok io mi fermo qua al momento anzi volevo vedere no non qua volevo vedere ah qui potrei scoutare con i cosi non lo so ci devo pensare non c'entra niente perché non mi esce ok fatemi invece sapere voi cosa avete fatto in quel box e anche in questi insomma se avete scoutato da qualche parte e se avete trovato non ci posso fare qualcosa di interessante vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo iscrivetevi al canale ciao ciao